Ave Quiriti, ben ritrovati in questo video. Come potete vedere non siamo ancora alla mappa, ci andremo molto presto. Questo video è stato presentato ed offerto da MyHeritage. Praticamente io ho fatto questa ricerca del DNA, come sapete sono un grande appassionato di storia, e ho voluto sapere di più sui miei avi. Quindi ho appunto preso questo servizio di MyHeritage, è molto semplice, dovete praticamente ordinare questo pacchetto molto carino che vi arriva, dovete appunto portare queste due asticelle dentro la bocca, come vi sto facendo vedere in modo veramente capace. E finalmente adesso possiamo andare a vedere quali sono i risultati. Allora Davide tu sei 23% greco-italiano-meridionale, Falasha, Falasha ragazzi è una delle etnie che sta nel corno d'Africa, molti di voi lo sapranno, io sono in parte etiope. 14,5% nord-africano, si vede credo. 13,2% medio-orientale ovviamente, corno d'Africa e medio-oriente comunque sono piuttosto collegati. Inoltre come potete vedere MyHeritage ti dà la possibilità di vedere se ci sono persone imparentate con te. Ci sono diversi profili, quindi ecco vi consiglio questo servizio, avrete anche uno sconto con il coupon Davide, trovate tutte le informazioni in descrizione. Ave Quiriti, ben ritrovati in un nuovo video, ci sono diverse novità dal fronte, prima di andare però in Ucraina andiamo un attimo in Francia. Cosa è successo in Francia? C'è una notizia piuttosto importante, i francesi stanno addestrando un'intera brigata, si parla di 2300 uomini circa. Si chiamerà Anna di Kiev, brigata ovviamente ucraina, addestrata abbiamo un video piuttosto esplicativo di quello che sta avvenendo nel Grand Est, questa regione orientale al confine con la Germania della Francia. C'è stata anche una visita di Macron, tra l'altro il nome Anna di Kiev molto emblematico, personaggio storico, è stata la regina di Francia, è stata moglie di Enrico I, parliamo più o meno dell'anno 1000, poche decine di anni dopo l'anno 1000, quindi medioevo. Anna di Kiev è stata reggente, quindi è stata regina, è stata tutrice del figlio Filippo, tra l'altro primo di una lunga serie di Filippo in Francia. Filippo, come dire, sono stati i vari Filippo che si sono succeduti sul trono francese, hanno avuto un certo potere, hanno avuto, come dire, una certa eredità per la Francia e per l'Europa. Nome Filippo, tra l'altro, che si dice sia stato importato da Anna dalla chiesa ortodossa greca e si dice anche da Filippo II di Macedonia, padre di qualcuno, come dire, che si conosce bene, insomma, che la storia conosce bene, che voi dovreste conoscere bene. Quindi ecco, questa è la situazione, non si sa bene dove si stia addestrando la brigata Anna di Kiev, non è stato reso noto da qualche parte, appunto, in questa regione orientale della Francia. Ci sono anche 150 mezzi che saranno messi a disposizione, immagino si dice che tutti i mezzi utilizzati in questo addestramento saranno poi dati. La Francia, quindi, continua a contribuire allo sforzo bellico-ucraino. Detto questo, andiamo sul fronte, ci sono diverse novità. Partiamo da sud, ci sono tante novità per quanto riguarda il Saliente di Ucceretine e in particolare la parte meridionale del Saliente di Ucceretine. Iniziamo da nord, c'è un piccolo avvicinamento da parte russa, verso Selidove, in direzione centrale. C'è una geolocalizzazione che ci testimonia la presenza russa in queste case basse, c'è del fuoco ucraino, ci sono dei droni in attività su queste case, in questi caseggiati. Andiamo più a sud, i russi stanno aumentando il territorio in loro possesso nella parte meridionale, nei soborghi, presso i soborghi meridionali di Selidove. Quindi l'intenzione di avviluppare Selidove si sta sempre più concretizzando, da parte russa, ovviamente. Qua nei soborghi meridionali i russi sono piuttosto attivi, come potete vedere, quindi stanno solidificando le loro posizioni. I russi stanno aumentando il territorio in loro possesso anche da queste parti. Qua abbiamo una geolocalizzazione piuttosto particolare. Qua ci sono delle posizioni russe a sud di Tsukurine, bombardate da un cararmato del battaglione corazzato della 59esima brigata motorizzata. Quindi è presente la 59esima brigata motorizzata, c'è un cararmato, come potete vedere dal video, della geolocalizzazione. Sappiamo però che tutto questo territorio è stato preso, è stato confermato anche dalla fonte filoucraina Deep State, è stato preso dai russi. Quindi i russi continuano ad avanzare verso ovest da Tsukurine e quindi si avvalora la tesi, l'idea, l'ipotesi, secondo cui i russi vorrebbero, diciamo, bypassare la conurbazione di Ghirnik, Zoryane, Kurakivka e andare alle spalle, cercare di prendere alle spalle la cittadina, l'importante obiettivo di Kurakove. Quindi ecco, questa è la situazione in direzione Kurakove appunto. Andiamo più a nord, andiamo in direzione di Toretsk. Qua la situazione sta cambiando, la morfologia proprio a livello di conquiste territoriali è cambiata in modo significativo. I russi pare che abbiano preso quasi tutti i soborghi meridionali di questa importante città. Quindi i russi sono veramente a un passo dalla miniera centrale, da questo impianto industriale che, diciamo, fa perno nella parte centrale di questa importante cittadina. I russi sono molto vicini alla miniera, appunto, sono vicini ai due grandi terri con questi ammassi di scorie minerarie. E quindi ecco, questa è la situazione. I russi stanno piano piano avanzando in questa città. Vi ricordo, presa Toretsk, i russi avranno una solida base per spingersi verso nord-ovest. Spingersi dove? Lo sapete molto bene ormai. Kostantinivka. Kostantinivka, veramente colpo grosso, obiettivo veramente importante per prendere poi tutto il Donbass. Detto questo andiamo più a nord, andiamo in direzione Siversk. Qua ci sono degli aggiornamenti piuttosto importanti. Come potete vedere, i due salienti, ne avevo messo anche un altro dalle parti di Grigorivka, adesso vi spiego perché, sono spariti. Dalle parti di Verkno-Kamianske abbiamo avuto dei chiarimenti. I russi non hanno preso tutta Verkno-Kamianske. Dopo aver posto la bandiera, i russi si sono ritirati, hanno delle posizioni veramente all'inizio del villaggio, nell'estremità orientale. Però ecco, tutto il villaggio Verkno-Kamianske è conteso. C'è una situazione veramente non facile. Non è facile avanzare in questo specifico settore. E poi c'è la situazione a Grigorivka. Qua avevo messo, forse non ve l'ho fatto nemmeno vedere, tutta una parte rossa, perché c'era una bandiera russa posta da soldati. Non era stata posta da un drone o quant'altro, c'erano dei soldati, vedete la geolocalizzazione, però qua il paesaggio già ci dice molto della difficoltà delle operazioni militari in questo settore. Cioè, sembra di stare sulla Luna. Non so se vi state accorgendo, questi piccoli puntini che sono più chiari del resto del terreno, sono buche da bombe. Cioè, sono veramente il risultato di un bombardamento che va avanti da anni in tutta questa zona. Tra l'altro Grigorivka è un villaggio fantasma. È difficile starci, posizionarsi in modo stabile. Quindi i russi evidentemente sono arrivati, hanno messo la bandiera, ma si sono ritirati subito dopo. I russi potranno avanzare in questo settore solo quando la situazione operativa lo permetterà. O cercheranno di insidiare Siversk da un'altra posizione, o altrimenti, appunto, la situazione è questa. Ricordo che qua, veramente, questa situazione, questo settore del fronte permane ormai da anni, possiamo dirlo. Quindi non è facile avanzare. Vedremo se ci saranno ulteriori aggiornamenti, ulteriori chiarimenti su questa difficile situazione, su questo difficile settore del fronte. Dato questo andiamo più a nord, andiamo in direzione Kupiansk. Anche qua abbiamo una geolocalizzazione, abbiamo una situazione molto particolare. C'è una geolocalizzazione relativa a degli attacchi del secondo battaglione meccanizzato della trentesima brigata ucraina, brigata meccanizzata, come potete vedere. E in particolare abbiamo dei soldati russi catturati dagli ucraini. Lo vedete dal video. Quindi abbiamo la prova, abbiamo la testimonianza che i russi si stanno spingendo in piccoli gruppi da Sinkivka e stanno andando a minacciare Petropavlivka, questa località. I russi cosa vogliono fare qui? Vogliono cercare di andare a recidere la logistica di tutto il gruppo di difesa ucraino che sta al di qua del fiume Oskil. Quindi a est di Kupiansk, qua come potete vedere ci sono delle strade, ve le rimarco diciamo, che poi vanno un po' a far affluire rifornimenti, vengono utilizzate dagli ucraini per far affluire rifornimenti uomini materiali da queste parti, su Ivanivka, Kislivka, Kotliarivka, Salienti di Pisciane, Tabaivka e via dicendo. Quindi ecco la situazione è molto delicata qua. Gli ucraini sono comunque attivi, si sono difesi, lo vediamo da questa geolocalizzazione, però ecco abbiamo la prova che i russi stanno iniziando a scendere da nord verso sud da Sinkivka e stanno andando a minacciare gli ucraini molto vicino a Kupiansk. Quindi ecco la situazione anche qui è da monitorare. Per oggi abbiamo concluso. Un saluto dal vostro Davide. Grazie a tutti.